Si tratta, a tutti gli effetti, di un reparto completo e quindi di una radiologia nuova. È una sede bella e funziona, bella per i pazienti da vedere e funzionale per noi e rappresenta un ulteriore passo avanti per l'unità operativa di diagnostica per immagini di Abilita. Apparecchiature di alto livello, per le quali spicca sicuramente la nuova risonanza e una riunificazione di tutto ciò che è radiologico in uno spazio chiuso, limitato, cosa che ci facilita nello spostare i pazienti e nel passare da una diagnostica all'altra qualora il paziente ne avesse la necessità. Per cui verrà ulteriormente implementata in futuro, a breve, la costruzione di una nuova porzione e l'installazione di una TAC multistrato di ultima generazione. per cui attualmente si tratta di un vero reparto di radiologia con caratteristiche tecniche avanzate e che potrà permettere ai pazienti di avere praticamente qualunque tipo di prestazione diagnostica venga richiesto senza difficoltà e problemi. La parte lombarda di Abilita sembra frammentata ma in realtà è una cosa positiva perché siamo molto presenti sul territorio. Poi naturalmente ogni sede ha le sue peculiarità e il paziente a seconda delle sue necessità può venire indirizzato in una sede o nell'altra in modo tale da offrire una prestazione della migliore qualità possibile. Io penso che al momento questa distribuzione ci favorisce e favorisce i pazienti che hanno necessità di determinate prestazioni. ovunque si trovi nell'ambito lombardo e bergamasco da Clusone a Sarnico a Bergamo noi possiamo tranquillamente accoglierli nella sede più comoda per il paziente e quindi è una cosa sicuramente positiva.